Noi siamo la regione più bio d'Italia perché abbiamo il 36% di superficie agricola utilizzata biologica, siamo i terzi in Europa e quindi siamo regione modello da questo punto di vista. Così l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo che aveva snocciolato i dati nel corso della 35esima edizione del SANA, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale e che oggi lo attesta anche il rapporto CREA 2022. Abbiamo investito tanto ma questo investimento ci ha portato ad essere regione altamente sostenibile perché l'Europa vuole la sostenibilità e noi da questo punto di vista siamo stati in linea investendo tanto ma naturalmente garantendo anche prevenzione, salubrità nelle produzioni e soprattutto rispetto all'ambiente. La Calabria con produzioni biologiche da millenni se pensiamo all'extravergine d'oliva. Il nostro olio extravergine di oliva è in gran parte biologico perché di questi 193.000 ettari coltivati a biologico ne abbiamo 70.000 olivetati. È chiaro che investire sul biologico e soprattutto sulla biodiversità, noi abbiamo eseguito anche il registro della biodiversità, credo che sia fondamentale per questo anche per far avvicinare tanti giovani e tante donne all'agricoltura che non è l'agricoltura di un tempo, della zappa, ma è un'agricoltura 4.0 che si governa attraverso l'alta tecnologia.